Scongiurare la mancanza d'acqua per l'estate, questo è il motivo che ha spinto il Comune di Orino a dotarsi di nuove tecnologie per il suo acquedotto. Vediamo. Un investimento sul futuro. L'amministrazione comunale di Orino ha investito 60.000 euro per apportare importanti miglioramenti all'acquedotto comunale, dopo la siccità che ha colpito il Paese l'anno scorso. I miglioramenti sono nella sostanza tutti tecnologici e si basano su un sistema di controllo a distanza capace di misurare i consumi nelle diverse parti del Paese e capire con il tempo e l'esperienza come evitare sfruttamenti eccessivi delle risorse che portino a nuovi pericoli di siccità. Il sistema ha permesso di capire anche a quanto ammontavano le perdite d'acqua nei vari rami dell'acquedotto, dando la possibilità di restringere il campo delle ricerche. Ma l'attenzione deve restare sempre sul risparmio. Basterebbero infatti pochi semplici accorgimenti come installare sui rubinetti dei frangiflusso per dimezzare la quantità d'acqua consumata nelle abitazioni. Abbiamo installato una serie di contatori sulla rete di distribuzione dell'acqua, sulla rete comunale, che ci permettono, collegati via radio con il Comune e con questo computer, con questo software, ci permettono di vedere quanta acqua viene distribuita praticamente in ogni via, in ogni zona del Paese, qua lo vediamo diviso per colori, in che momenti della giornata e quindi capire dove va a finire l'acqua che ci esce dall'acquedotto. L'investimento di Orino è stato oneroso per un piccolo comune ma permetterà di scongiurare ulteriori problemi e spese, un esempio che altri comuni della Venese potrebbero seguire per evitare di fare i conti con un'altra estate a secco.